salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale io sono grace oggi iniziamo un'avventura come potete vedere inizieremo grand tf auto 5 molti di voi l'avranno già giocato io non l'avevo ancora comprato visto anche il prezzo quant'altro comunque l'ho trovato in offerta speciale a 8 euro se non mi sbaglio nel link trovate in descrizione ok avevo già provato a fare un partitino avevo provato già a registrare il primo filmato purtroppo non è andato a buon fine di conseguenza lo iniziamo insieme ok detto questo detto tutto buon divertimento ragazzi ok ragazzi iniziamo subito cazzotti cattivi allora raggiungi la guardia per modificare ok v modificare la visuale soliti tastino sto giocando con tastiera e mouse ragazzi ok allora innanzitutto vediamo se c'è qualcosa di aperto qua assolutamente no ok allora prossimo allora mira gli ostaggi per spingere dai 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 forza forza vadi di là vadi di là te con quel bellissimo giverino lì forza forza ok ok premi invio per visualizzare i contatti ottimo detonazione via che è che è esplosione ragazzi è che è esplosione allora accettiamo anche tutti i soldini che ci sono per terra 179.000 doni ok elimina la guardia purtroppo ragazzo è fatto l'eroe e di conseguenza devi morire andiamo andiamo esplosione ragazzi 5 stelle 5 stelle ok ancora il libro cattiamo un po' di munizioni ok ok questo deve essere fatto a fuori eh ok andiamo avanti gli altri ok scusate ragazzi se non parlo ma sinceramente sono un po' preso dal sparatorio qui continuano a sparacchiare l'altro dov'è? sarà qua dietro esatto ottimo così ragazzi avanziamo fanno 5 stelline ok bisogna che abbiamo fatto un maccello che è stato fatto? che è stato fatto? Vissere! Ah, f**k! Come che è successo? No, 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 no! F**k! Sì, non credi che ci sarebbe... F**k! Il ragazzo è un poch. F**k tu! F**k tu!! ok adesso vediamo noi l'altro veicolo passiamo i tastini ottimo come on getch the car all right we can go this way to the chopper no hey stick to the plan what stick to the fucking plan come on where the fuck's the chopper I'm gonna trip around back the fucking bed someone must have fucking talked all right brad's gonna be fine we gotta get the fuck out of here fuck out of here oh jesus key you gotta get out of here I'm gonna leave you Mikey hey go god i'm not gonna be fucking gonna bleed out let's go nooo i'm standing here finish me ok ci hanno sparacchiato ragazzi ci hanno sparacchiato fuck you fuck you fuck you fuck you fuck you come on come on come on ok 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 mirova in un bordello ragazzi hey no no hey hey oh 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 No, 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 no! I don't know what you're talking about! F***ing stay back! You come near me, she's f***ing dead! Stay back! No, no, no! Can I help me? Help! Go! Michael was not always a good husband, not always a good citizen. He did not die a hero's death, but he was a man. Our Lord was crucified with two thieves, so perhaps we should not judge. We are born of sin and we die in sin. Father, we do not know your infinite mysteries, but we know that you will show mercy to our friends. Your son, James, he's a good kid. He's a good kid? A good kid. Why? Does he help the fucking poor? No. He sits on his ass all day, smoking dope and jerking off while he plays that fucking game. And if that's our standard for goodness, then no wonder this country's screwed. And what about you? What about me? Hey. I don't have the advantages that kid has. By the time I was his age, I'd already been in prison twice. I robbed banks. I ran whores, smuggled dope. And you consider them achievements. These were the opportunities I had. At least I took them. And where did these opportunities get you, Michael? They got me right fucking here. The end of the road. With a big house and a useless kid. And I'm stuck talking to you because no one else gives a shit. Oh, I'm living a dream, baby. And that dream is fucked. It is fucking fucked. Let it all out. I think I just did. Oh, well, I think that's all we have time for. The same time next week? I guess. Oh. I gotta tell you, I ain't too sure this shit is working for me. Hmm. A sense of overriding futility is a vital part of the process. Embrace it. Whatever you say, Doc. Oh, well, I think that's a Ноers. He gets anっ perform. I think she's a fan of that. Oh, we took us off in the inside. We took us. It was about 10 seconds. It is. We liberation Maßnahmen. Grazie a tutti. 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 Ok. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok. Ok. Grazie a tutti. Tu sei un racista e io non ti piace. E non ti sellare questo caro. 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 Ok. Ok. non ti sellare questo caro. Non ti sellare questo caro. E quindi... Non ti sellare questo caro. Non ti sellare questo caro. è fuori questo il nostro amico è fuori comunque parrucchieri disponibili poi andiamo a vedere successivamente allora dormi sul letto per salvare la partita e far avanzare il tempo va bene salvo i progressi di gioco in qualsiasi momento tranne le missioni usando il pulsante salvataggio rapido sul telefono ok puoi cambiarti d'abito nel tuo guardaroba poi magari andiamo a comprare dei vestiti in modo un po' più cazzuti ok missione completata ottimo allora neanche un graffio guidatore concentrato vincitore veniamo in pace 63% va bene va bene non ha niente male per una prima mission dai ok va bene amici vi direi che il nostro primo episodio termina qui spero che la nostra nuova avventura vi sia piaciuta se non siete iscritti al canale iscrivetevi se hai più sull'ottimato lasciate un bel like vi ringrazio per il mio sito ci vediamo con il prossimo gameplay un saluto a tutti da grazie a tutti 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 grazie a tutti